Adesso andiamo su un tema, definiamolo Glamour, un tema che già da qualche anno stavo seguendo, soprattutto dopo la scoperta dei neuroni specchio, perché la risonanza emotiva è veramente la cosa più interessante che è stata scoperta, non solo per le sue ricadute sulla funzionalità e sulla relazione umana, ma anche su patologie, gli studi attuali sull'autismo che hanno conosciuto un momento di stop negli ultimi tre anni, ma che adesso riprendono vigore perché davvero l'autistico è un isolato emotivamente, semplificando al massimo. L'amore, visto dalle neuroscienze è un concentrato, un insieme di valutazioni sia dal punto di vista della neurobiologia del cervello, cioè cosa succede in un cervello innamorato, la neurochimica, il coinvolgimento di tutti gli altri organi dell'organismo, perché a tutt'oggi Antonio Damasio, che venne qui appunto nel 2004, forse il più grande neuroscienziato del mondo, ha cognato secondo me il termine più bello e più esaustivo sull'emozione. Che cos'è l'emozione? È l'insieme dei cambiamenti che avvengono nell'organismo in risposta a uno stimolo esterno. Non so, la timidezza ti fa arrossire. La visione o di uno spavento o di un innamoramento ti batte più veloce il cuore. Ti spaventi per qualcosa ti viene il mal di pancia, da cui ho detto a Mercellese, che diceva sempre mia mamma quando era l'assessore, che leggeva tutte le mie polemiche, diceva ma Giorgio Pitti nei sei mal da panza. Queste sono le emozioni, cioè l'insieme dei cambiamenti che avvengono in risposta a uno stimolo. Il sentimento è la consapevolezza della corteccia cerebrale, cioè della parte consapevole di noi, di questi cambiamenti.